L'Ars ha approvato il DDL misure finanziarie urgenti con 38 voti a favore e 21 contrari. Il via libera alla cosiddetta manovrina estiva è arrivato al termine di una seduta iniziata alle 15 e conclusa sin torno a mezzanotte, ma per definire l'intesa sul maxi emendamento c'è voluta una sospensione durata in tutto quasi 4 ore, durante le quali si sono tenute a Palazzo dei Normanni alcune riunioni tra i rappresentanti del governo e delle forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione. La legge contiene provvedimenti e misure finanziarie che interessano diversi ambiti ad iniziare da comuni, formazione professionale, infrastrutture, contributi per attività ed iniziative sul territorio tramite enti locali ed associazioni, norme su società ed enti regionali, provvedimenti sulla crisi idrica che possono contare, sostanziamenti per 10 milioni di euro. L'Aula è stata convocata per questa mattina alle 11 in base a quanto stabilito dall'ultima conferenza dei capigruppo, sarà discusso il DDL di riforma delle ex province. Un milione di euro per aiutare pescatori di Lampedusa che hanno subito danni alle reti o alla strumentazione di bordo a causa dei barchini relitti ripescati in mare. Lo stanziamento è dell'Ars ed è in favore di tutto il compatto ittico siciliano. Più volte avevamo chiesto alla regione siciliana e ai ministeri di intervenire per questa problematica e finalmente le nostre richieste sono state accolte, ha detto il sindaco dell'Isola delle Pelagie, Filippo Mannino. Ringraziamo il presidente Renato Schifani, l'assessore regionale alla pesca e tutti i deputati siciliani che hanno sostenuto questo passaggio in favore della nostra marineria. Grazie a tutti.